Salve a tutti, era da tanto 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 tempo, da quando ero poco più che bambino, che sognavo di realizzare un trasmettitore a scintilla, ovvero quello di ripetere l'esperimento con cui Guglielmo Marconi riuscì poi a realizzare il telegrafo senza fili. Me lo sono portato dietro tanti anni, in passato ci ho già provato, mancava sempre qualcosa, adesso mi sono messo di punta e ho cercato con quello che ho reperito di ricostruire un trasmettitore a scintilla. Un po' di storia e magari, se possibile, qualche piccolo appunto. Nel 1895 Guglielmo Marconi, poco più che ventenne, sulla scia degli esperimenti fatti da Hertz e dall'italiano Augusto Righi, insieme, utilizzando anche un'altra invenzione di un italiano, che era il coesore o coerer di Tenistochle Calzecchi Onesti, che è stato oggetto di un mio precedente video che vi linko in basso, riuscì appunto a realizzare la prima trasmissione telegrafica veramente funzionante. Guglielmo Marconi non è l'inventore della radio, anche perché poi radio che vuol dire, non si sa. Guglielmo Marconi si propose di utilizzare queste precedenti invenzioni, scoperte anche, per fare appunto un telegrafo che non avesse bisogno dei fili, perché fino a quel momento il telegrafo era fatto appunto da una stazione trasmittente, da una stazione ricevente e in mezzo c'era un filo che le collegava, dove passava il segnale. Come ritorno si utilizzava la Terra, il pianeta Terra. Questo era quello che fino a quel momento c'era. E Guglielmo Marconi sognava di togliere questo filo, utilizzando appunto delle invenzioni e delle scoperte che già c'erano. E qui è l'appunto che parte, perché poi in America a un certo punto hanno fatto un processo intentato da Nikola Tesla, dove lui asseriva di essere un reale inventore della radio. Contemporaneamente c'era un altro in Russia, Popov, che faceva la stessa cosa. In America però, mentre dopo tanti tanti decenni sono riusciti ad ammettere che Antonio Meucci era il vero inventore del telefono e non Alexander Graham Bell, parimenti c'è stata una sentenza che ha asserito che in effetti Marconi poco aveva aggiunto rispetto a quello che aveva detto Tesla. Poi in Italia, siccome abbiamo quelli lì che sono abituati, scusate il francesismo, a pisciarsi addosso, sempre a denigrare l'Italia e a prendere qualsiasi occasione per sputare addosso a quello che i nostri concittadini hanno fatto, si sbrodolano dicendo che Marconi non ha inventato un cazzo. Ma infatti Marconi non ha mai detto di avere inventato la radio, perché la radio di per sé non si poteva inventare. C'erano le onde radio, che venivano già chiamate onde hertziane, perché partivano proprio da degli studi di Hertz, che le aveva già dimostrate. Le invenzioni su cui si è appoggiato realmente Guglielmo Marconi, già preesistenti, fondamentalmente erano due. Uno, il rocchetto di Rutmoth, ve lo metto in sovrappressione, e l'altro, appunto, il coesore di Temistocle Calzecchi Onesti. Queste due invenzioni preesistenti sono alla base, insieme alle esperienze di Hertz, Maxwell, Lodge, eccetera, e Righi, Augusto Righi, di cui poi Marconi sarà anche studente. Queste sono le basi su cui Marconi ha sviluppato il suo trasmettitore a scintilla. L'apparato trasmittente di Guglielmo Marconi è identico spiccicato a quello utilizzato anni prima da Hertz. È identico. Lui ha aggiunto delle cose per trasformare quello che era un semplice studio scientifico in qualcosa di utilizzabile, realmente. Tutto qua. Non c'è un pezzo di Tesla, non c'è la bobina di Tesla, perché Guglielmo Marconi, ripeto, ha utilizzato il rocchetto di Rutmoth, non ha utilizzato la bobina di Tesla. Basterà leggere, e mi sto già preparando per fare un video ad hoc su questo argomento, andandomi a rileggere e a tradurre il brevetto che tutti voi potete trovare su Google Patents. I due brevetti andremo a confrontare, quello del 1904 di Guglielmo Marconi e quello precedente di Nikola Tesla. E vedrete che fondamentalmente quello che dice Tesla poco c'entra con quello che ha poi fatto, realmente poi anni prima, peraltro l'ha fatto, Guglielmo Marconi. Nikola Tesla, con la bobina di Tesla, voleva trasmettere energia e nel brevetto è ben evidente che da una parte lui ci attacca le lampadine, ci attacca i motori, eccetera, eccetera. Non è una telegrafia senza fini. Chiudo qua e andiamo al mio trasmettitore a scintilla che ovviamente nel gusto di sperimentare e di rimettersi anche un po' nelle condizioni loro, di quando lo hanno fatto, di quelle di Guglielmo Marconi, l'ho dovuto fare con quello che ho rimediato. Ora, ho già detto che la parte principale è il rocchetto di Rootmorph, Rootmorph o Rumorph, non mi ricordo mai come si dice, un cognome piuttosto complesso. Mentre la bobina di Tesla fondamentalmente non ha mai trovato una vera e propria applicazione nel mondo civile, il rocchetto di Rootmorph ce l'abbiamo tutti, tutti indistintamente ancora oggi, lo ancora oggi lo utilizziamo, ed è la bobina della macchina. La bobina dell'alta tensione della macchina è il rocchetto di Rootmorph, né più né meno. Quindi, per fare il mio trasmettitore a scintilla, così come tanti altri sperimentatori in questi anni, in questi decenni, hanno fatto, e anche altri makers, utilizzerò proprio una bobina che il mio amico Salvatore Nuccio, che ha un'officina, mi ha regalato, chiaramente una bobina rimediata, che io ho provveduto a ripulire, spazzolare, e a ricollegare con dei cavetti nuovi. Bene, andiamo a vedere adesso sul tavolino, in modalità un po' aerea, il mio trasmettitore a scintilla, e vi farò vedere piano piano come lo ho costruito. Partendo da due oggetti, che sono appunto oggetti di altri due video, uno, un elettromagnetico, ho fatto con un rocchetto del filo da cucire, togliendo il filo da cucire mettendoci il filo elettrico, ho fatto questo elettromagnete, molto carino da vedere, con questo elettromagnete ho fatto un ronzatore, e quel ronzatore lo avevo fatto apposta, proprio per realizzare successivamente il trasmettitore a scintilla. E adesso via, andiamo a vedere come lo ho costruito, e facciamo anche qualche scintillone. Alla prossima. Sky means business. Sky means business. Sky means business. prima di tutto parliamo della alimentazione questo coso andrà a una tensione di 12 volt non utilizzeremo una batteria come utilizzò Marconi ma utilizzeremo questo alimentatore che fornisce appunto 12 volt è un bel amperaggio perché comunque sia per tirar giù delle belle scintille bisogna alimentare la bobina con un opportuno amperaggio ecco il mio trasmettitore a scintilla come vedete è composto appunto da una bobina suppongo sia di una panda o non so che cosa che ho ripulito spazzolato la basetta l'ho modificata mettendoci dei buchi per poterlo ancorare bene con delle scoponi viti su questa tavoletta di legno anche la tavoletta ovviamente è rimediata stacco momentaneamente il coccodrillo di qua abbiamo il famoso ronzatore allora come funziona il campanello? campanello o ronzatore funziona in una maniera molto semplice questo è più giusto chiamarlo ronzatore perché non c'è la campana fa solo il bzz allora questa è l'armatura c'è questa armatura che io ho ottenuto con un pezzettino di seghetto da ferro succede questo da qui arriva l'alimentazione in questa posizione la barretta ci passa la corrente tocca questa vite questa vite è collegata alla bobina poi dalla bobina si torna all'alimentazione quindi in questa situazione con l'armatura a riposo la corrente passa l'elettrogrammita si eccita e tac attira a sé l'armatura ma nel momento in cui attira l'armatura scollega se stessa e quindi l'elettromagnete si spegne non è più alimentato e torna indietro a quel punto è nuovamente alimentato e riattira non è più alimentato e si stacca e quindi questo movimento fa sì che avvenga il ronzio l'aggiunta è di questo secondo contatto questo secondo contatto quando non viene alimentata l'elettromagnete andrà ad alimentare la bobina molto semplice è un pezzo in più rispetto al rocchetto di Rootmorph perché nel rocchetto di Rootmorph il vibratore è parte integrante dello stesso rocchetto perché ha il nucleo fuori in questo caso siccome le bobine delle auto sono tutte sigillate all'interno c'è il bitume insomma quindi non si possono aprire non possiamo usare il nucleo interno dobbiamo farlo per forza fuori oppure possiamo anche pilotarle con qualcosa di elettronico per esempio ma non è nello spirito giusto a me piaceva più farlo così è più simile al reale a quello di una volta una cosa importante come nella macchina questo praticamente va a sostituire quello che sono le puntine platinate c'è bisogno di un condensatore che spenga la scintilla che c'è qui tanto è vero che adesso che lo accenderò vedrete che quando funziona da questa parte la scintilla c'è mentre di qua invece quando tocca di qua la scintilla non c'è è molto importante qui è veramente importante perché se ci fosse la scintilla diminuisce notevolmente l'efficacia della bobina quindi la devo ridurre al minimo niente di meglio che utilizzare quella giusta il condensatore è preso anch'esso grazie a Salvatore Nuccio che me l'ha dato recuperato da una macchina ed eccoci qua e questo è quanto passiamo all'altra parte qui è tutto rimediato ci sono delle parti che però non potevo rimediare perché volevo a tutti i costi risolvere la parte dello spinterogeno che è quella scusate ho detto spinterogeno mi sono sbagliato lo spinterometro lo spinterometro l'ho voluto realizzare come va realizzato con le palline con le sfere che peraltro hanno un ruolo molto importante nello scoccare della scintilla perché sono proprio le palline che realizzano l'oscillazione radio loro hanno un ruolo importante nell'oscillazione se ci mettessi delle punte non sarebbe proprio la stessa cosa sappiamo già per chi non lo sapesse lo saprà in questo momento ma chi è esperto in elettricità lo sa benissimo che ogni millimetro di aria sono 3 kV qui siamo quasi a 4 mm quindi stiamo a 12.000 V e questa è l'occasione compare chiaramente la morte secca per ricordare che lavorare con la corrente anche se da questa parte l'abbiamo alimentata semplicemente a 12 V ma qui si gioca con tensioni notevolmente alte appunto stiamo sull'ordine 10, 12 13.000 V sono pericolose quantomeno vi fate male beccate una bella sberla se siete cardiopatici potete rischiare grosso quindi sempre e comunque quando c'è da giocare con l'elettricità ricordate attenzione 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 chi tocca i fili muore molto importante adesso andiamo praticamente che abbiamo finito ah scusate manca la parte più importante l'uscita della bobina va direttamente tramite questi questo cavetto con due coccodrilli a uno dei lati della dello spinterometro quest'altro va al negativo della bobina dove c'è scritto proprio meno e sarà il negativo dove andremo attaccare proprio il negativo e oltretutto andremo attaccare quando farò un altro video con gli esperimenti di trasmissione veri e propri questo lato andrà collegato a terra da questa parte invece collegheremo l'antenna o come dicevano una volta l'aereo che non ha nulla a che vedere con quello che vola ma con quello che sta in aria addirittura veniva chiamata l'antenna aereo la terra veniva chiamata addirittura contrappeso perché alle volte veniva proprio utilizzato un blocco di piombo buttato per terra così come visibile nel laboratorio di Marconi nelle foto antiche insomma degli esperimenti di Marconi adesso procediamo ad attaccare l'alimentazione prima di farlo qualche immagine qualche discorso sulle sferette dove le ho rimediate semplicemente mettiamo qualcosa in sovraimpressione sulla lavorazione delle sferette perché queste sferette sono ottenute semplicemente da delle manopole di ottone dorato suppongo di quelle che si trovano nelle ferramente quelle che si mettono nei cassetti o nei mobili ho tolto la flangia praticamente che c'era da questa parte qua e togliendo la flangia che poi recupererò per fare magari altri lavori ne è venuta fuori utilizzando il trapano come tornio eccetera eccetera è venuto fuori praticamente una coppia di sferette precise procediamo con l'accensione allora mentre facevo le prove siccome l'alimentatore che utilizzo ehm tira fuori oltre 15 ampere ho malauratamente realizzato un corto e ho fatto un bel botto quindi cerchiamo di non realizzare nuovamente quel botto allora collegato il negativo lo vedete eccoci qua dove sta il dito qua giù in fondo andremo a collegare il positivo spengo la luce vedete la scintilla tra le stelle dello spinteromero vi faccio vedere lo scintillio che ce l'ho qui perché qui non ho provveduto a metterci un condensatore a differenza del contatto della bobina dove invece c'è il condensatore quant'è la differenza notate vedete è notevolmente ridotta metto il coccodrillo così ecco qua adesso andremo a vedere una se ci riesco a riproporvi una parte integrante di un video che feci quando ho costruito il coesore perché ieri l'ho riprovato e funzionicchia provo a riproporlo tac allora questo è il coesore che ho realizzato lascio perdere su come ho fatto il coesore perché seguirà un altro video dove ne farò un altro per fare il ricevitore al coesore andate a vedere il video dove l'ho costruito e provato questo è molto grossolano e funzionicchia ma è un po' insomma veramente la parola giusta è grossolano allora tester puntali del tester ci mettiamo dei coccodrilli ai lati dei coccodrilli mettiamo il coesore e lo appoggio qui eh bene andiamo a ripetere praticamente l'esperimento il primo primissimo esperimento fatto da Guglielmo Marconi dove tramite un trasmettitore a scintilla ha praticamente eccitato tra virgolette un coesore il coesore eccolo bene è collegato praticamente ad un tester messo in modalità ommetro come vedete adesso in questo momento il coesore è isola non permette il passaggio della della corrente adesso lo sottoponiamo a un'onda elettromagnetica generato dalla scarica dell'oscillatore e dovrebbe cominciare a condurre ecco qua ne facciamo un po' per resettare il coerer basta un colpetto addirittura sul tavolino si rimettono a posto i granelli in questo caso suppongo di nickel all'interno e torna ad essere isolante avete visto per un po' ha condotto ecco qua il coesore ha bisogno sempre di un colpetto per ritornare alla sua condizione iniziale quando nel prossimo video costruiremo un ricevitore che utilizza un coesore vediamo come viene risolto questo problema e come ha risolto Marconi il problema del del reset costruendo una cosa che si chiama decoesore in realtà utilizzò un campanello privato della campana e il martelletto invece che andare a battere sulla campana come normalmente dovrebbe fare un campanello o faceva all'epoca un campanello andava a battere direttamente sul tubicino di vetro perché lui lo fece in vetro del coesore ecco qua e fu così e fu così con un attrezzo che fu sviluppato ma fondamentalmente da un principio era questo maggiore potenza maggiore precisione costruttiva che furono salvati i naufraghi del Titanic nel 1912 vi ringrazio di aver seguito il video fino a questo momento vi annuncio che seguiranno altri video in merito soprattutto uno in cui costruiremo appunto un ricevitore a coesore con un nuovo coesore che andrò a costruire con un altro materiale all'interno cercherò di farne uno più preciso più ben fatto anche più bello da vedere perché questo è veramente anche mostruoso e appunto vi ringrazio se volete mettete un mi piace al video chi non lo ha mai fatto per cortesia si iscrive al canale non vi costa nulla e ci vediamo ai prossimi video grazie di nuovo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti